Classe audio, preamplificatore DR7 con alimentatore separato, era un top di gamma e un apparecchio piuttosto raro. Classe audio è stata fondata da Dave Reich nei primi anni 80. Il successo dell'azienda si basava su rivoluzionari progetti di amplificazione e preamplificazione è stato solido. Questi apparecchi innovativi hanno costituito dei nuovi riferimenti nell'alta fedeltà. È anche chiaramente evidente che Classe intendeva che questi prodotti potessero durare per tutta la vita. Il circuito e la qualità costruttiva hanno un progetto fenomenale a bassa sollecitazione e questo è stato supportato da una garanzia a vita per il primo proprietario. Il Classe DR7 è un amplificatore dual mono eccezionale con una enorme PSU esterna, uno stadiofono con due ingressi e un controllo volume separato per ciascun canale. È stato recensito in molti paesi come uno dei migliori preamplificatori al mondo. Il suo stadiofono interno, in particolare la sezione MC, è una delle migliori nel suo genere. Gli ingressi Fono hanno una flessibilità completa per i valori di guadagno, impedenza e capacità. Questo pre si avvantaggia del circuito Star Grounding, che aiuta a prevenire il loop di massa e ridurre la rumorosità. Uno switch sul pannello anteriore permette di ridurre il guadagno di alto livello di 5 o 10 dB. Ma la cosa più importante è che questo apparecchio fa suonare il sistema Wi-Fi in una maniera così naturale come pochi altri preamplificatori al mondo. È in condizioni impeccabili, uniproprietario, sottoutilizzato e le foto e le immagini video parlano da sole. Grazie a tutti!